e spero la si diffonda il più possibile. Adesso partiamo, saremo rapidissimi, imponati e efficaci, soprattutto per non spiegarvi come funziona. Chiederei se è un sindaco, se adesso vuole dire qualcosa a lei, poi qui, intonuciamo il dottor Giordano che vi spiega rapido come funziona. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuto a tutti voi. Ringrazio per questa occasione, è un servizio estremamente valido che vorremmo anche mettere nella disponibilità dei comuni a tutti i cibili. Noi siamo un'associazione con la Polizia Locale e Polizioni di Giustante Verate, Camparana, Guarezzana. Abbiamo invitato anche il comune di Alcone che si è detto tempo fa molto interessato. Adesso servizio. Grazie.